Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, M.K.Lestroyer, e vi do il benvenuto alla quinta parte della nostra avventura su Minecraft. A Collombia Pierna, Cosa, Dio. Porco, fa il guletto dove nemm empirei, io ti permetto, Oddio. Basta, pari prima. oh chung 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 no Grazie a tutti. 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 Oh Cristo. Grazie a tutti. 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 Doi. Grazie a tutti. Un giorno. Grazie a tutti. 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 a tutti.